La vostra storia è legata al caso Padova? Esatto, siamo una delle famiglie del caso Padova. Cosa rivendicate oggi? Noi oggi siamo qui per rivendicare il fatto che siamo madri dei nostri figli e delle nostre figlie nello stesso identico modo, sia che li abbiamo partoriti o meno e che sottolineiamo il fatto che non è possibile stralciare un certificato di nascita dopo anni che è stato formulato, rendendo così dei bambini e delle bambine orfane di Stato. Finché mancherà una legge, ci sarà un vuoto legislativo, avremo sempre questo problema. Noi chiediamo come famiglia Arcobaleno che vengano riconosciuti i nostri figli e le nostre figlie alla nascita e che ci sia anche il matrimonio ugualitario, per avere dei diritti pieni per le nostre famiglie. Serena e Giada. Raccontate un po' la vostra storia. Allora noi ci siamo conosciute nel 2010 e quasi subito siamo partite per avere dei figli perché Serena aveva un forte senso di maternità e siamo andati in Spagna appunto per accedere alla fecondazione e sono arrivati subito i gemelli che adesso avranno 11 anni al prossimo luglio. Quest'estate, sì. Con loro abbiamo aspettato qualche anno ma siamo riusciti a riconoscerli tramite tribunale sempre, mai tramite comune, mentre poi abbiamo avuto una terza figlia che adesso avrà 5 anni a giugno e lei ancora non abbiamo ottenuto né riconoscimento né adozione e quindi all'interno della nostra famiglia c'è anche questa disparità. Passi indietro. Più di uno, più di uno. Assolutamente. E purtroppo non ha permesso di poter avere anche il riconoscimento della più piccolina. Da questa piazza che messaggio fa? Assolutamente il primo è che deve passare una legge che tuteli i nostri figli e quindi che vengano riconosciuti sin dalla nascita all'interno della famiglia, anche se noi siamo unite civilmente, ma siamo famiglie anche se non fossimo unite civilmente, quindi come dicevo prima, noi ci sentiamo madri sin dal primo istante in cui pensiamo di volere dei figli, tant'è che si definisce istinto materno e non essere riconosciuti neanche dopo, e quello che è successo a Padova è terribile dover continuare a lottare, ti toglie le energie. Non vogliamo neanche creare la disparità interna dove loro hanno il riconoscimento pieno, mentre la piccola dovremmo chiedere l'adozione, che è l'unica cosa che adesso tutela le nostre famiglie, ma dobbiamo comunque rivolgerci a un tribunale. Noi continueremo a incassare, continueremo a combattere perché si parla dei nostri figli, non è una battaglia solo nostra, anzi, è più per tutelare loro e tutti quelli che verranno dopo di loro, quindi continueremo, però è molto dura in questo momento. Si sentono molto discriminati, però sanno che questa discriminazione arriva solo da fuori, perché loro in realtà ci conoscono da sempre, sanno che la loro famiglia è questa, noi e la loro sorella, con i loro amici, tranquillamente, con tutte le persone che conosciamo, diciamo, la comunità che conosciamo, siamo accettati, quindi diciamo che viviamo in una bolla, però si rendono conto che fuori è molto diverso. Speriamo con questi messaggi, queste piazze e tutte queste persone che mandano e portano la loro testimonianza di riuscire a smuovere qualche coscienza.